Cortina Banca la supporto perché è un evento meraviglioso, Cortina Farase aiuta tantissimo l'economia locale e fa gruppo. Per noi essere una cooperativa bancaria è quasi nel nostro DNA quello di aiutare l'associazionismo come è Cortina Farase. Queen of Taste è l'apice, è una delle manifestazioni più belle dell'estate ampezzana, crea indotto sicuramente ma crea tanta immagine e noi abbiamo veramente molto bisogno di un'immagine sana, pulita, con molto veramente molto entusiasmo abbiamo deciso di sostenere questa meravigliosa iniziativa.